L'Unione Europea chiede all'Italia di sostenere la crescita, tagliare il debito e fare le riforme annunciate. Siete uno tra i paesi più squilibrati, dichiara il commissario Olli Ren, che concede al nostro paese due mesi di tempo per raggiungere gli obiettivi richiesti. Crescita e equilibrio nei conti sono compatibili, secondo Napolitano, mentre oggi sono attesi i provvedimenti della Banca Centrale Europea sui tassi per favorire i prestiti bancari a famiglie e imprese. Ora si cambia, il giudizio è severo, nessuna polemica ma bisogna correre, è la replica di Matteo Renzi allo schiaffo di Bruxelles. Il Premier annuncia per mercoledì 12 il valo del Job Act, ovvero i provvedimenti sul lavoro, casa e scuola. Il Ministro Paduan spiega come troverà i soldi per il taglio del cuneo fiscale e mentre l'Italicum arriva in aula e resiste al voto segreto, non mancano le polemiche per l'annuncio del Ministro Boschi. Non verranno cioè chieste le dimissioni dei sottosegretari indagati. Diplomazia al lavoro per sminare la crisi in Crimea. Oggi a Roma dovrebbero incontrarsi di nuovo il segretario di Stato americano John Kerry e il Ministro degli Esteri russo Lavrov. Si tenta di dialogare a partire dagli accordi sull'Ucraina raggiunti prima della cacciata di Yanukovic. Anche l'Unione si mobilita a Bruxelles, vertice straordinario dei capi di Stato. Gli azzurri del calcio sconfitti in amichevole dalla Spagna. Gli iberici più tecnici in forma dell'Italia si impongono con un gol di Pedro nella ripresa. Imbarazzante la differenza di condizione, dice Prandelli, che però riceve dal test utili indicazioni per scegliere gli uomini che porterà al Mondiale in Brasile. Bene l'esordio di Paletta in difesa, bene anche Cerci in attacco. 7.28, buongiorno a tutti dalle telegiornali della 7. Dunque un sonoro ceffone arriva all'Italia da parte di Bruxelles, che boccia l'Italia per squilibri eccessivi, come d'altronde è successo ai nostri vicini a Est, Slovenia e Croazia. L'Europa sostanzialmente ci chiede di tagliare, di ridurre il debito, di far riprendere l'economia e fare soprattutto e in fretta le riforme. Vediamo. Oggi è il giorno della Banca Centrale Europea. Mario Draghi potrebbe infatti decidere di interrompere le operazioni che sterilizzano la liquidità utilizzata per l'acquisto di titoli di Stato. In pratica, per ogni euro di bond sborsato dalle banche, l'Eurotower dal 2010 ha cercato di drenare un uguale importo attraverso depositi fruttiferi. Operazione che dovrebbe, nelle intenzioni della BCE, far ripartire i prestiti interbancari, ridurre i tassi di interesse a breve e, di conseguenza, indurre gli istituti di credito a prestare più denaro a famiglie e imprese. Il tutto avrebbe come effetto secondario una modesta ripresa dell'inflazione. E' proprio la grande speranza che ciò avvenga a fatto volare i mercati di quei paesi che più di tutti stanno subendo la stretta sul credito Italia e Spagna, con Milano e Madrid che ieri hanno chiuso in forte rialzo e lo spread tra BTP decennali e Bund tedeschi, sceso sotto la soglia dei 180 punti con rendimenti al 3,37% ai minimi dal 2005. Il tutto senza prestare troppo orecchio alle bacchettate della Commissione Europea che ha messo l'Italia tra i tre paesi sui 17 analizzati, caratterizzati da squilibri macroeconomici eccessivi. I nodi sono sempre gli stessi, debito pubblico alle stelle e scarsa competitività, difetti che, secondo i tecnici di Bruxelles, vengono amplificati dalla limitata produttività del lavoro. In più, gli aggiustamenti strutturali sono insufficienti come del resto insufficiente, viene considerata la manovra del 2014 sulla via che viene ritenuta la sola possibile per una duratura, riduzione dell'indebitamento, un surplus primario elevatissimo e una crescita robusta del PIL per un periodo di tempo prolungato. Fronteggiare questa situazione, secondo il commissario agli affari economici OlliREN, richiede azioni politiche decise e un forte impegno. Incoraggiamo il nuovo governo a compiere tali azioni, vogliamo sostenere l'Italia in questo percorso. Ma gli incoraggiamenti e il sostegno inevitabilmente si tradurranno in un costante monitoraggio da parte della Commissione che farà frequenti rapporti all'Eurogruppo. Insomma, da Bruxelles attendono con ansia il piano di riforme dell'esecutivo che, fanno sapere dal Tesoro, è in linea con l'analisi della Commissione. Insomma, aspettiamo importanti decisioni dalla Banca Centrale Europea di Mario Draghi. È ovvio che questa di Bruxelles è una botta, avevamo detto prima, uno schiaffo per il governo, ha peraltro appena insediato, con Renzi che ieri ha ammesso, sì, i dati sono duri, un po' ce lo aspettavamo, ma ora occorre davvero cambiare passo, a maggior ragione occorre cambiare passo. Tra l'altro il Ministro dell'Economia, Padoan, è al lavoro sulle coperture per tagliare il cuneo fiscale, cioè le tasse sul lavoro, ma anche per trovare le coperture per i rimborsi dei debiti della pubblica amministrazione. Ma prima ancora di ricevere queste notizie da Bruxelles, Matteo Renzi aveva annunciato, e annuncia dunque per mercoledì prossimo, importanti provvedimenti. Intanto il piano sul lavoro, il piano sulla casa e importanti provvedimenti ancora sull'edilizia scolastica. Governo che però è alle prese con un'altra grana, quella dei sottosegretari indagati. Nessuna polemica, ma bisogna correre. Il Premier Renzi si rimbocca le maniche davanti alle critiche rivolte dall'Europa verso l'Italia e garantisce tre cose per il prossimo mercoledì e dunque nell'arco di una settimana. Piano per la scuola, Jobs Act, dunque piano per il lavoro, e casa col ginepraio delle tasse relative. Renzi replica con durezza alle critiche della Commissione europea che ricalcano la ruvidezza del passato e che pur assicurando appoggio a Renzi gli danno una sorta di benvenuto assai gelido in Europa. Bruxelles torna a bacchettare l'Italia per i suoi conti pubblici. Sul nostro paese, secondo l'Europa, gravano pesanti squilibri. Manovra insufficiente, riforma tiepide, tra le cause adombrate, deficit sempre eccessivo. Cambieremo, assicura Renzi, che chiede anche all'Europa però di cambiare ottica nei confronti dell'Italia. I numeri non erano quelli di Letta, si difende Renzi, ora dobbiamo correre senza scherzare. Il primo esame in questo senso lo dovrà sostenere il neoministro dell'economia. Si comincia da lunedì prossimo, quando Pia Carlo Padoan sarà a Bruxelles per l'Eurogruppo. Nessun dualismo col Premier, rassicura l'ex economista dell'Ocse, catapultato a capo del dicastero forse più delicato del momento, che ci tiene molto a negare una contrapposizione col Premier, nella certezza che simili dinamiche farebbero davvero molto male al paese in questa fase della vita. A parlare sui forti temi dell'economia, anche il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, Crescita ed equilibrio dei conti pubblici sono compatibili ed indispensabili per ricreare fiducia in Europa. Quindi tutti uniti, su priorità ai tagli fiscali, le risorse a sicura Padoan arriveranno dalle sforbiciate al settore spesa, 5 miliardi nel 2014 e misure transitorie. Dalle pagine del Corriere del Sole 24 Ore parla di IRAP, di IRPEF e assicura. Sul deficit non dobbiamo tornare oltre il 3%. E intanto a far sentire la sua voce anche la ministra per i rapporti col Parlamento, Boschi, ieri al Question Time chiesto dei 5 Stelle. Non chiederemo passi indietro a chi avvisi di garanzia. Insomma, gli indagati non si toccano, sostiene la Boschi, ministra più vicina al Premier Renzi. Insomma, fin qui le grane che sono tante. Qualche buona notizia invece per il Governo arriva dal Parlamento, da Montecitorio, dove la legge elettorale sembra davvero che possa essere approvata, diciamo così, entro la settimana. Perché ieri ha passato una prova difficile, quella del primo voto segreto. C'è stato per la verità anche qualche franco tiratore. Ma insomma, le cose sono andate bene. Intanto però c'è Grillo, Beppe Grillo, che spara a zero. Nuova legge elettorale più vicina dopo il superamento del battesimo del fuoco, ieri con il primo voto alla Camera. L'accordo Renzi-Alfano-Berlusconi regge, anche se calcolatore alla mano, ci sono 34 voti in meno rispetto alla fiducia ottenuta da Renzi. E comunque si punta a chiudere entro domani, confidando che l'intesa politica regga anche all'impatto degli eventuali, probabili, franchi tiratori. Anche perché sulle riforme, e principalmente su quella del Senato, ci si gioca la vittoria della scommessa, dice Renzi, ieri in visita a una scuola a Siracusa. Se non ci riusciremo avremo perso, anche se l'economia riparte, dice Renzi. Superato dunque il primo scoglio, quello del voto segreto sul primo emendamento, si trattava dell'emendamento proposto dai Cinque Stelle, che attaccano a testa bassa. Secondo Beppe Grillo, le elezioni potrebbero essere più vicine di quanto si possa pensare. A novembre, oppure in primavera 2015, e ci andremo con una legge per la Camera, il pregiudicatellum, e una per il Senato, il consultellum. Un vero e proprio scempio istituzionale, dice Grillo, che poi attacca Matteo Renzi paragonando le sue visite scolastiche a quelle di Benito Mussolini. Grillo è nervoso, risponde Renzi, dopo aver annunciato il piano del lavoro per la prossima settimana. Misure shock per non sprecare la ripresa. E risorse per la scuola, due miliardi di euro. Ma una scommessa così impegnativa, non si vince in solitaria, come un acrobata sul filo, ma si vince insieme. E a Grillo Renzi manda a dire non vuole che io vada nelle scuole, mi vorrebbe rinchiuso nel palazzo, ma io sto con gli studenti, gli insegnanti, le famiglie, i sindaci, mentre i suoi stanno fuori a urlare con forza nuova dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Siamo alla crisi dell'Ucraina perché ci sono prove tecniche di dialogo fra Stati Uniti e Russia per riportare questo clima da guerra fredda davvero nei libri di storia. Oggi a Roma dovrebbero vedersi di nuovo il sottosegretario di Stato John Kerry e il ministro degli esteri russo Lavrov. E poi a Bruxelles c'è il vertice dei capi di Stato. Vediamo. E a New York al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che oggi si cercherà di imprimere una svolta diplomatica alla crisi ucraina. Così come del rischio di una nuova guerra in Europa parleranno a Bruxelles i capi di Stato e di Governo dell'Unione. Sì, perché il vertice di ieri a Parigi è stato un sostanziale fallimento. L'ospicato incontro tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il collega ucraino infatti non c'è stato e Lavrov che oggi è a Roma assieme al segretario di Stato americano John Kerry per partecipare ai colloqui sulla Libia ha lasciato Parigi trincerato sulle sue posizioni. Così come Washington che non accetta lo scavalcamento dell'attuale governo ad interim di Kiev ha smentito le voci circolate in un primo momento di un'intesa complessiva tra le parti che prevedesse, come chiesto da Berlino e Parigi il parziale recupero dell'accordo del 21 febbraio che prevedeva la formazione di un governo di unità nazionale che rappresentasse tutti nell'accompagnare il paese verso le presidenziali. E se da una parte Barack Obama mantiene la posizione dura nei confronti di Vladimir Putin ribadita in un colloquio telefonico con il premier britannico David Cameron dall'altra Angela Merkel cerca di ricomporre la frattura senza precedenti dai tempi della caduta del muro di Berlino tra Mosca e il resto dell'Occidente. La cancelliera tedesca ha infatti telefonato ieri sera al presidente russo per discutere di scenari di cooperazione internazionali auspicando la normalizzazione in Ucraina come ha reso noto lo stesso Cremlino. Una situazione grave che si inserisce in un dialogo costruttivo ha detto John Kerry che oggi a Roma cercherà di convincere Lavrov a spegnere la miccia di un conflitto che se dovesse esplodere avrebbe conseguenze disastrose. E ora vediamo la situazione sul campo sul terreno nell'epicentro della crisi nella penisola della Crimea dove c'è la nostra inviata Paola Mascioli. Al suo arrivo alla caserma dei Fanti di Marina da giorni circondata da misteriosi soldati armati Robert Serri ha trovato una calma irreale. L'inviato speciale delle Nazioni Unite per l'Ucraina è entrato per incontrare i militari di Sinferopoli che per tutto il giorno hanno assistito dall'interno ad un pericoloso crescente di tensione. Le opposte fazioni si sono confrontate sotto l'unica bandiera ucraina rimasta sventolare proprio sul pennone della base militare. Nel pomeriggio i manifestanti e le milizie hanno lasciato il campo e Serri ha potuto parlare con calma con i militari ucraini. Al termine a noi ha solamente detto ci vediamo per la conferenza stampa tra mezz'ora ma questa conferenza stampa non è mai iniziata. Un gruppo di manifestanti lo aspettava davanti all'albergo dove aveva dato appuntamento ai giornalisti nell'uno negli altri sono mai riusciti ad entrare. L'inviato è stato bloccato in un negozio di alimentari con alcuni fronisti per un tempo sufficiente a fargli capire che era bene lasciare subito Sinferopoli e così è stato. Serri ha preso il primo volo utile per Kiev da dove ha deciso di continuare la missione per l'Ucraina. Nel frattempo anche a Donetsk e nell'est dell'Ucraina i miliziani filorussi hanno occupato la sede regionale. Ci sono stati scontri una decina di persone è rimasta ferita. Torniamo in Italia in particolare in Lombardia si sono fatti rimborsare davvero di tutto ve rileggo perché la lista è lunga dai torroni ai pranzi a base di sushi dal grattevinci al biglietto del tram e potremmo continuare a lungo. In tutto comunque parliamo di quasi 3 milioni di euro che 64 consiglieri regionali lombardi appunto si sono fatti rimborsare. sarà difficile dimostrare che si tratta di spese legate al loro mandato politico. I magistrati milanesi che hanno chiuso le indagini sulle spese pazze di 64 tra ex e attuali consiglieri regionali lombardi ne sono convinti. Provoloni bistecche gelati sigarette cartucce munizioni da caccia televisori cene ristoranti di lusso annunci funebri e tanti altri articoli non solo culinari non rientrano tra le attività politiche di rappresentanza. Il conto finale dei rimborsi erogati dalla regione supera i 3 milioni di euro. Processo in vista dunque con l'accusa di peculato per i politici regionali coinvolti 30 sono del PDL 24 della Lega Nord 5 del PD 4 dell'Udc 1 ciascuno per i dv e pensionati. Per l'ex assessore all'epoca presidente del consiglio regionale il leghista Davide Boni l'accusa invece di truffa. avrebbe fatto credere alla regione di vivere ancora nel Mantovano e per raggiungere il consiglio regionale avrebbe speso 32 mila euro in spese di viaggio tra il 2003 e il 2011 di cui chiedeva il rimborso senza averne il diritto. Tra gli indagati anche un consulente esterno il genero di Stefano Galli l'ex capogruppo del Carroccio che in nota spese mise il costo del banchetto del matrimonio della figlia a suo marito appunto Galli fece avere una consulenza da 196 mila euro senza averne però i requisiti. Più di un anno di indagini migliaia di scontrini spulciati dai PM milanesi anche quelli presentati da Nicole Minetti condannata nel processo Rubi Bissa a 5 anni per favoreggiamento della prostituzione. Nei pochi mesi del suo mandato in regione ha chiesto 20 mila euro come rimborsi per cena e ristoranti alla moda e tra gli acquisti il libro Mignotocrazia. Ma anche a Renzo Bossi sono contestati sprechi per 15 mila euro pacchetti di sigarette comprate all'autogrill bottiglie di integratori e birre. Contestualmente alla chiusura indagini PM Robledo e Filippini hanno chiesto l'archiviazione per 11 ex assessori per loro anche se le spese sono state giustificate non è stata però dimostrata la coerenza col mandato politico non è escluso che di questi aspetti possa occuparsi la Corte dei Conti. Sarebbero stati d'accordo per lanciare il farmaco infinitamente più caro a scapito di quello invece più economico per questo l'antitrust ha combinato una super multa a due colossi del farmaco come Roche e Novartis e peraltro indagano anche due procure. Una sanzione esemplare una multa da 180 milioni di euro è stata inflitta dall'antitrust a due big dell'industria farmaceutica a Roche e Novartis accusate di aver formato un cartello per condizionare le vendite di due prodotti identici destinati alla cura della vista. Si tratta del caso dell'Avalstein del Lucentis secondo l'autorità garante della concorrenza e del mercato le due industrie si sarebbero accordate per ostacolare la vendita del primo prodotto più economico a vantaggio del secondo differenziandoli artificiosamente. In pratica Roche e Novartis avrebbero inserito l'Avastin la cui confezione costa tra i 15 e gli 81 euro nella lista dei prodotti meno sicuri per la cura di patologie come la degenerazione maculare senire la prima causa di cecità nei paesi industrializzati favorendo di fatto la diffusione del Lucentis prezzo per dose 900 euro causando così un esborso aggiuntivo per il sistema nazionale di 45 milioni di euro per il solo 2012 con costi che sarebbero potuti arrivare sino ai 600 milioni di euro i guadagni invece sarebbero stati tutti a vantaggio delle due aziende con la Roche che possiede la Genertec l'azienda che ha inventato i Lucentis e la Novartis che controlla invece il 30% delle quote di Roche l'istruttoria è stata avviata nel febbraio 2013 dopo le segnalazioni della società oftalmologica italiana e da un'associazione di cliniche private al procedimento hanno chiesto e ottenuto di partecipare anche la regione Emilia Romagna e l'associazione di consumatori Altro Consumo Novartis e Roche negano con forza invece ogni addebito annunciando ricorso al TAR e dichiarando che il prodotto meno caro Lavastin non sarebbe un farmaco oftalmico ma oncologico sulla vicenda indagano anche due procure quella di Roma e dal 2012 la procura di Torino siamo al calcio un divario fisico imbarazzante così Cesare Prandelli fotografa un po' la partita di ieri sera l'amichevole di lusso tra la Spagna campione del mondo e l'Italia hanno vinto gli spagnoli un tuffo azzurro a Madrid 32 anni dopo il trionfo mondiale un assaggio di quella Spagna alla quale ormai siamo abbonati unico test prima delle convocazioni per il Brasile la sconfitta non è il dato primario per la nazionale di Prandelli che ha voluto provare le alternative dove ci sono più dubbi a guidare un attacco che perde i pezzi il ritorno di Osvaldo assistito dalla colza di Candreva e soprattutto Cerci il granato accende subito la luce con uno strappo che si conclude sul palo per la deviazione di Sergio Ramos non c'è pilota gli azzurri manca anche l'architetto della Spagna Xavi che però non è ridimensionata nel palleggio e propone per la prima volta Diego Costa il brasiliano di casa nello stadio dell'Atletico Madrid un debutto anche per la nostra nazionale in difesa ottima la prova dell'orundo paletta del Parma Prandelli vorrebbe conquistare la palla con il pressing alto ma gli avversari ritrovano sempre primi nonostante le notevoli difficoltà costruiamo una grande chance con il tacco di Marchisio che ispira Osvaldo il cui sinistro esce di pochissimo nella ripresa si torna allo schema tradizionale del rombo con l'ingresso di Pirlo subiamo un po' meno anche se non è facile prendere l'iniziativa in avanti la Spagna insiste affidandosi anche alla classe di Silva dal duetto con Iniesta esce fuori l'opportunità per Pedro di calciare sotto le gambe di un buffon sorpreso è il sigillo su una vittoria meritata anche se pochi minuti più tardi paletta potrebbe coronare alla grande l'esordio con l'Italia sulla sua acrobazia il Biola rischia l'autogol il CT prende appunti e riconosce la netta superiorità fisica dei campioni del mondo siamo in chiusura solo un qualche secondo per darvi la chiusura della borsa giapponese quella di Tokyo con il Nikkei che ha guadagnato l'1,6% una buona notizia un'indicazione importante anche in vista dell'apertura dei mercati europei in una giornata importante con i provvedimenti attesti da parte della Banca Centrale Europea di Mario Draghi 7.47 ci fermiamo qui ora c'è il meteo con Paolo Sottogrona poi Omnibus prossima edizione del Tg alle 13.30 potete seguirci anche sul nostro sito tgla7.it e grazie al nostro account di Twitter grazie a tutti per l'attenzione buona giornata a tutti a tutti a tutti a tutti a tutti Grazie a tutti.